Ciao a tutti, oggi giocheremo a sparare con il nerf, è carico, adesso mia sorella che è lì, posizionerà lasciando tu la palla, poi mi chiede da qualche parte per beccarle la pelle, e magari non beccando me, ciao, allora facciamo la pausa così da un po' prendermi le mesi, sono pronta, anche qua, aspetta, pronta, 1, 2, 3, ok, perfetto, ci siamo, così da compacciare per le sue visioni, ora adesso, mia sorella ha messo un po' di bicchieri in giro, cercherò di colpirli, vediamo che carica, c'è la pasta, però qui, sai che li schiaccia dentro, no, non carica bene questo nerf, c'ho solo così, non voglio prendere quello fatto di nuovo, pronti, vediamo, non so dove trovare il primo, vediamo, prendiamo quello, mi vedo, magari, sì, però non si vede il proiettile, ma non si vede il proiettile, non fa niente, non guardo io il proiettile, sei buono, ti fai da camera meglio, sì, sì, si vede, hai sottolore, ma dai che schifo, no, 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 si, l'hai colpito, però non è andato giù, però va bene comunque, perché quello lì è un po' impossibile, perfetto, dopo cambiano di recuperare lì, tu ti è contato a continuare sparati, vabbè, da adesso conta quanti ne sparo, ok, ora dovevo andare, ok, mi avvicino un po', vai lì, vai lì, vai lì, io prendo di qua, ecco, tu prendi me magari, aspetta, sei all'ombra però, vai lì, no, ok, così va bene, anche questa è la cosa, ok, vai, un pochino all'ombra davanti, non fa niente, 5 colpi per ora, aspetta un minuto che ti metto un po' così, magari ti si vedi meglio, no, non ti credo, 6, 7, 7, 7, 7, 8, ci vedo tutto nero, non fa niente, si vedo tutto nero, ma non ti vale più, idea, 8, c'è solo la 7 tipo, no, 8, 8, 9, 10, 10 colpi ancora, niente da fare, vabbè, ci rinuncio, ne prendo un altro, ok, ah, dai anche di là ci sono, sì, sì, prendo questo, quale? non guardare l'ostacolo, guarda me, aspetta che lo devo abbassare un po', oh cacchio, devo abbassare il trapiede, eh, ma non si vede, ah, ma si può abbassare, no, lascia così, non mi vedo io, sì, ok, no, ok, ora si vede, si vede ora, vai anche se stai giù, ok, contraccolpi, quello lì, affeccio, da qua, da rimontano, vai, na, ah, che è? poi non rovinare tutto tra i piedi, grazie, fissalo, e alzalo, aspettate un secondo che c'ho un imbecille, dai, ah, ma, fissa quello, ah, ma chi lo sapeva, alza questo, quello un attimo, ok, chiudi qui, e, vado, vai, zero colpi, il bersaglio, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, cani, caricatore vuoto, facciamo la pausa, ok, uno, due, tre, eh, Davide, eh, qua, in questo ostacolo qua, siamo arrivati ad otto colpi, ok, ce la farò, aspetta che ti giro, che, dopo devi censurare una targa, nove, dieci, undici, 12, 13, 14, ah, aspetta, dala, 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 chi colpisce sul fiore, eh, due, tre, dopo ho preso, no, quattro, cinque il fiore, sei il fiore, sette, otto, prego la palla, ok, aspetta, aspeccio, aspetta che non ti si vede, no, aspetta, davvero, come si fa ad abbassare, ok, si, in due colpi, e, dove andiamo, c'è ancora quello là che non avevi colpito, ok, aspetta, davvero, mi aspetta, ok, vai, andiamo da lì, andiamo qua, ok, quale è quello in alto di qua, perché viene posizionato uno di qua, e uno sopra proprio il rinone, uno, due, tre, ops, siamo a tutto, tutto è già finito, ok, tre, quattro, cinque, sei, caritatore, pronta, ok, due, tre, ok, ci siamo, è qua sopra, alla porta, pronta, ok, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ti convarrebbe andare in un altro posto, otto, preso, quasi mi veniva in testa, miracolo, continuiamo, quello, amo quello, vai là, in un colpo, tentativo, andiamo, quello, quello là, sì, vai, pronta, muovete, non farmi perdere il tempo, aspeccia, aspetta, è troppo alto, no, come si fa, faccio io, no, faccio io, ok, vai, no, aspettate, due, da nulla, aspettate, tre, tre, later, preso, non mirare, di qua, mi sono scaldato, ok, quale? quello, e facciamo, perfetto, guarda se mi vedo, è troppo, mi vedo, sì, ti vedi, a me, non è di me, due, tre, quattro, pronto, cinque, c'è ancora, ce ne sono ancora, sotto, al portico, ciao, amico, c'è ancora, quello là, che prima non aveva battuto, e poi ce ne, ma ce ne era uno là, sulla luce, che tu non avevi colpito, quello, no, la, sulla cosa del, non so, è finito, vai lì, dai, ma se ce ne è, là, su quel roburace, ah, ce ne è uno, anche la terra, Anna, vai là, ci siamo, aspeccia, vada, vada, e vanno arrivate le dieci, no, vabbè, ricominciate, four hours later, uno, due, e io posso, che la ti faccio, tre, faccio, zero, cinque, l'hai toccato, ok, l'ho toccato, si è mosso, si, si è mosso, ma puttacora, non ho, vediamo se con questo caricatore, riesco qua a quello, ok, vai là, br 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 br, sei illuminato da Dio, da vedere, qua c'è il bersaglio, dai, vuoi, vedendo c'è il cordino del te, ma che dondulas, pronta, sono troppo forte, mi sono scaldati, questo, cioè, con un colpo, ha fatto giù, le cose, eh, comunque, non so neanche se mi miravo, però vabbè, ora, è bersaglio più difficile, prendere me, prendere me, ti ho preso, no, presa, fa mi uscire, aspetta, basta, fermo un attimo, fermo, aiutami per me, provare il carico, aspetta, si, 1, 2, 3, e ragazzi, questo primo video è sfinito, la prima parte, adesso ne farò subito una di seguito, che pubblicherò nei giorni dopo, e adesso faccio dei castelli di bicchieri, io li devo sparare, ah, io li so distruggere, ok, ci vediamo nella parte 2, un altro giorno, ciao, 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 ciao,